Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino del Mugello. Sulla variante di Valico un chilometro di coda per incidente tra Firenzuola e Aglio in direzione Roma. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita allo svincolo di Lastra Assigna in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!